benvenute e benvenuti a molecole in scatola dialoghi su chimica e società a cura del dipartimento di chimica dell'università di torino in ogni puntata racconteremo un problema una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona a cosa serve o dove lo trovate magari senza saperlo nella vita di tutti i giorni quale sarà il contenuto della scatola di oggi buongiorno benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di molecole in scatola il podcast del dipartimento di chimica che esplora le sfide chimiche e sociali mi presento sono il professor francesco trotta ordinario di chimica industriale sempre perso il dipartimento di chimica università di torino e con me oggi mi accompagna un giovane valente ricercatore il dottor adrian matensio buongiorno professore a tutti e tutte penso che sia giunto il momento di far vedere cosa abbiamo nella nostra bella scatola ecco adrian per favore se vuoi tirare fuori una bella patata questa se mi fa un po complicata bene lo arrivo a prendere è una confezione di mais questo è l'oggetto di studio di questa puntata così a primo luogo penso in comune entrambi che vengono all'america ma non penso siamo qua per parlare di cristofo al colombo e no adrian non proprio questo anche se io sono molto affezionato alla città di genova e che la patria di cristofo al colombo ma ti ricordo che siamo pur sempre dei chimici allora dal punto di vista chimico magari la sua composizione visto che entrambi sono una bella fonte di nutrienti e sì in effetti l'amido contenuto in queste nella patata nel mais ma anche nel nei piselli nel riso e molti altri vegetali fanno parte in una parte importante della nostra dieta perché l'unità costitutiva la il mattone diciamo così di questa di queste molecole è il glucosio il glucosio che aggiungo è una molecola semplice che è costituita solo da carbonio idrogeno e ossigeno forse i nostri spettatori non sanno che secondo la canzone mondiale della sanità sono dentro questo il glucosio dei carboidrati che devono rappresentare tra il 55 e il 60 per cento l'apporto calorico giornaliero questo glucosio anche può essere legato da se stesso di diverse maniere oppure di altri piccoli zuccheri noi per esempio lo immagazziniamo a formare il glucosio ma le piante per esempio lo possono avere in forma di amido che ha funzione energetica o cellulosa in forma di struttura esatto cellulosa amida sono parenti molto strette a differenza noi sappiamo estremamente limitata ma estremamente importante in quanto l'amido può essere edibile è una fonte appunto energetica principale ripetiamo principale a dispetto delle diete che ci sono in giro mentre la cellulosa essenzialmente un materiale di struttura diciamo così per quanto riguarda l'amido in effetti io ho dedicato molta parte della mia ricerca allo studio dell'amido o dei suoi derivati ma tu pensa l'amido quante applicazioni può avere è inserito ad esempio in molte compresse pastiglie come disingregante o legante è un unito a molti tessili per migliorare la resistenza la troviamo sulla carta dei fogli per migliorare ancora una volta la resistenza ma anche la scrittura sopra è un'infinità di altre applicazioni che adesso non abbiamo qui il tempo per per trattare comunque il l'amido viene anche utilizzato per fare le bioplastiche molto importanti per produrre adesivi da piccolo io potevo incollare i fogli semplicemente bagnando un po di farina in cui realmente l'amido con un po' d'acqua no e ultimamente chiaramente può essere anche una fonte per il bioetanolo quindi per sopperire alla nostra richiesta di energia penso che non dobbiamo dimenticare anche l'uso in alimentazione come gelificante in tante zuppe o creme che troviamo oppure uno molto importante non io ancora sono grato alla prima persona che ha deciso bere la fermentazione dell'orso non sappiamo come mai però le sono molto grato sì la cosa buffa è che l'umanità quanto pare ha scoperto prima la birra la fermentazione piuttosto che i saponi quindi sembrerebbe dire che tutti sommati preferivano piuttosto avere delle brezza piuttosto che seguire un po di pulizia personale però tu sai che nel mediterraneo l'italia come la spagna il tuo paese di origine più che la birra noi preferiamo la fermentazione dell'uva per dare dell'ottimo vino di cui questa regione il piemonte è un esempio molto importante ma possiamo proseguire con la scatola adesso in scatola mi viene fuori una piccola confezione scritta TGTAs del Bacillus Matherans questo penso professore che è un enzima ci può parlare un po di più ebbè gli enzimi adrian tu sai sono catalizzatori biologici che consentono al nostro corpo o alla vita in generale che ci circonda reazioni in condizioni blande che altrimenti non sarebbero possibile e quindi sono veramente un po alla base della vita questo in modo particolare è un enzima isolato da un batterio il Bacillus Matherans che ha la possibilità ha delle proprietà particolari sì infatti a me piace sempre mi sono piaciuti sempre le applicazioni però questo alla fine ha un perché biologico ci dobbiamo confrontare due batteri sono lì di fronte uno all'altro con il stesso macchinario enzimatico tentando di mangiare l'amido delle patate o del mais alla fine con il stesso macchinario enzimatico la probabilità di vincere è la stessa a un punto dell'evoluzione uno di loro sviluppa questa enzima che è in grado di trasformare l'amido in una molecola chiamata ciclo destino e non solo questo se no anche in grado di degradarlo questo batterio ha il vantaggio evolutivo perché può rimuovere l'amido trasformarlo in ciclo destino essendo per lui solo la fonte di glucosio invece dell'altro ma professore ci puoi parlare un po di più di queste ciclo destino penso che abbiamo innescato la qualcosa esatto in effetti questo batterio sottrae il cibo ai suoi concorrenti e noi parliamo di cibo che bello possiamo fare colazione appena finiremo questo podcast ma qui vediamo appunto una ciambella al cioccolato che è importante perché le ciclo destrine di cui stiamo parlando quelle che appunto i batteri producono hanno esattamente la forma di una ciambella in questa cavità nel buco centrale della ciambella io posso ospitare altre molecole specialmente quelle che ad esempio in acqua non sono solubili e siccome moltissimi farmaci non sono solubili in acqua quindi ovviamente neanche nel nostro corpo tu pensa che circa il 40% di quelli che sono in commercio oggi hanno questa particolare carenza di solubilità e addirittura il 90% di quelli che stanno per essere immessi nel mercato in acqua non sono solubili quindi si rende per forza obbligatoria una sua formulazione adatta per renderli somministrabili a noi giusto quello è vero che le ciclo destine hanno un gran uso nel settore farma ma a me dal momento che ho cominciato a lavorare su questo campo mi hanno piaciuto tanto le applicazioni e non solo si trovano lì ci troviamo anche sulla tintura dei tessuti per mantenere ancora di più sulle shampoo addirittura ci sono shampoo per cani che portano queste ciclo destine, interatori alimentari, diverse molecole anche se è vero se il punto di vista farmacologico è uno dei suoi più importanti applicazioni ma io mi ricordo infatti quando parlavamo della pandemia che le ciclo destine hanno avuto qualcosa di vedere con due importanti applicazioni professore e beh sì della scatola, questa scatola è molto grande, abbiamo molti oggetti magari l'attento di farlo uscire lo prima che troviamo è una molecola che è la rendesevir la troviamo in questa confezione lo secondo che troviamo e tiriamo fuori è una mascherina esatto c'è ancora un'altra cosetta e c'è un'altra cosetta però pensavo che era solo due ma in realtà le mettiamo tre abbiamo messo tre che è una siringa una siringa con un bel vaccino qua allora il rendesevir come sai è l'unico farmaco antivirale approvato dalla FDA per il trattamento del covid-19 però come dicevo prima il rendesevir è un altro esempio di una molecola efficace ed efficiente ma assolutamente insolubile in acqua e quindi non subministrabile aggiungendo alla formulazione del rendesevir un'opportuna cicodestrina si è reso questo composto solubile quindi è stato possibile utilizzarlo per il trattamento di questa grave forma di malattia di questa pandemia e poi abbiamo una mascherina qui cambiamo campo totalmente ma in realtà due o tre anni fa una ditta francese ha trovato che incapsulando quindi mettendo dentro un'agente invirucida nelle cicodestrine poi procedendo a una tessitura con opportune fibre l'azione antivirale protettiva e antibatterica aumentava enormemente quindi la cicodestrina ha avuto anche un ruolo nei proteggisi dai contagi e dopo qua all'ultimo abbiamo la siringa io se non me ne sbaglio la ciclosina può essere usata per stabilizzare i componenti dentro del vaccino ma può essere usata per altre cose professore? sì allora per intanto possiamo dire che nella formulazione piuttosto complessa dei vaccini in modo particolare quello poi abbandonato in Italia della Janssen era presente anche una quantità importante di cicodestrine per stabilizzare appunto questa formulazione ma è proprio la tecnologia del vaccino a RNA come tu sai ha fortissimi sviluppi e impieghi probabilmente e noi stessi con il dipartimento di chimica abbiamo utilizzato questa tecnologia per trattare modificare una cicodestrina rendere adatta a complessare stabilizzare l'RNA e avvicolarlo per formare un vaccino per il trattamento del belanoma che è uno dei tumori più aggressivi e pericolosi che si conoscano molto interessante tutto penso che abbiamo visto oggi qua visto che partiamo di una patata del mais siamo arrivati a parlare di antivirali a parlare di antitumorali di altre molecole come la ciclosina con diverse applicazioni e un esempio in più di una batteria di ricerca che troviamo dentro del dipartimento di eccellenza in concreto ovviamente queste sono legate alla tematica del work package quadro work package salute quante cose si possono fare da una patata giustamente e allora niente in più ci salutiamo a tutti e tutte grazie per la vostra attenzione è stato un piacere professore anche per lei buongiorno molecole in scatola è realizzato dalla commissione public engagement del dipartimento di chimica dell'università di torino dipartimento di eccellenza 2023 2027 da un'idea di francesca turco musico originali di filippo turci si ringraziano paolo mazzà ed il team ict per l'assistenza tecnica e shiva salepur per il montaggio le puntate sono disponibili sul canale youtube del dipartimento sulla piattaforma podcast spreaker e su spotify